Se prendi un animale fa parte della famiglia, come un figlio. Con l'iniziativa Curiamoli Tutti saremo presenti dal mese di maggio al mese di ottobre in varie zone di Roma, il primo e il terzo sabato di ogni mese, per raccogliere cibo e farmaci veterinari da banco, per aiutare tanti animali. Non potevo permettermi alcun tipo di intervento da fare, abbiamo chiamato voi e prontamente non ci avete detto di no, anzi. Non gli posso comprare il cibo giusto, ma è quindi adeguato a lui, è un po' malaticcio, ha le orecchie rosse, non posso curarlo, perché mio marito non sta lavorando. Purtroppo a causa della pandemia il potere di acquisto di tante famiglie italiane è diminuito e quindi accudire un animale sta diventando sempre più difficile per molte di esse. E quindi noi con l'iniziativa Curiamoli Tutti vogliamo dare un aiuto concreto sia agli animali che vivono assieme a famiglie bisognose, ma anche agli animali che vivono in strada e una famiglia invece purtroppo non c'è l'anno. Il nostro caso è grazie a voi della LAV che l'abbiamo ancora con noi. Grazie di tutto, grazie a voi Betove piano piano ce la farà insomma. Grazie.